dolorosissima retrocessione della color max pescara in a2 con un turno d'anticipo un peccato un paradosso un peccato perché i ragazzi di palusci ben oltre contenuti tecnici non paragonabili a quelli di tante altre squadre forse tutte avrebbero meritato sorte migliore troppe vicissitudini al di là dell'organico a disposizione paradosso perché quasi un contentino del destino il 22 aprile due compagni giocheranno sia pure col pronostico sfavore in coppa italia contro il pesero nei quarti gara nella quale ne siamo certi la color max darà conferma delle sue doti soprattutto tattiche umane di raro esempio ferma come noto l'acqua e sapone unigrosse niente super match col pesero capolista in a2 una falcidiata come al solito tombesi conquista nelle immagini un punto di platino sul campo della vice manfredonia in un match in cui è accaduto di tutto gli ortonesi e un soffio dai playoff definitivi saranno arbitri della promozione in a sabato intanto trasferta non semplice ma utile a castelfidardo in bila dem cade sul campo della vice capolista molfetta squadra che ospiterà stasera le 19 al palasenna per l'ennesimo recupero a caccia dell'area playoff a riposo i tornei femminili